E' appena finita la gara 1 della Superbike, ultimo round del Mondiale 2023 a Erez ed è successo quello che doveva succedere. Alvaro Bautista vince gara 1 e si laurea per la seconda volta consecutiva campione del mondo in un mondiale che era comunque già indirizzato dalle gare precedenti ma che per la matematica, a dir la verità, era ancora aperto seppur i punti che doveva perdere Bautista sulla Sgattiog ne erano soltanto due. Si è corso a Erez della frontiera, round aggiunto un po' all'ultimo minuto per concludere il Mondiale Superbike, doveva in realtà corrersi in questo weekend il round di Argentina ma per motivi politici a San Juan non si corre più. Erez è entrata come sostituto e in Spagna vince il pilota spagnolo Alvaro Bautista. Al termine di una gara 1 che per una verità è stata abbastanza interessante per la prima parte, dalla seconda metà in avanti, il pilota con il numero 1 ha fatto veramente quello che voleva, probabilmente una gestione migliore delle gomme, oltre che un pacchetto della moto superiore rispetto a questa Yamaha, ha fatto sì che alla fine il pilota spagnolo Bautista vincesse con... Tre secondi di vantaggio sulla Sgattiog, che comunque ha provato a rompere il ritmo a Bautista, soprattutto nella prima parte guidata, dove evidentemente il turco ne aveva di più, in una pista dove evidentemente Bautista aveva qualche vantaggio rispetto magari ad altre piste, un pochino meno importante, però comunque cambia poco, Bautista ha fatto un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero dominando e vincendo gli avversari si è laureato, ancora una volta, campione del mondo. È il secondo titolo consecutivo per quanto riguarda il pilota spagnolo 38enne, che di fatto ha vinto più di 50 gare in Superbike, tutte con Ducati, segno che evidentemente il connubio tra la V4 Panigale R e il pilota spagnolo è stato sicuramente positivo e vincente. L'anno prossimo Bautista sarà ovviamente confermato nella Superbike 2024 con questo team, ma bisogna fare attenzione a un dettaglio non di poco conto, ovvero il balance of performance. Sappiamo che tutte le moto verranno zavorrate perché ci sarà il peso minimo motopilota, ma appunto con il regolamento invece vecchio Bautista ha fatto il Bautista anche in gara 1 a Eres della Frontera e ha vinto meritatamente gara e mondiale. Parliamo evidentemente di un pilota che ha fatto un po' quello che aveva combinato l'anno scorso con un ruolo di marcia veramente impressionante, soltanto un fenomeno come Top Razgatioglu evidentemente ha tenuto testa a questo Bautista. probabilmente il turco non avesse avuto di fronte questo tipo di pacchetto Ducati Vanigale V4R e Bautista dove ha vinto il mondiale perché il record del turco Razgatioglu è veramente impressionante, ancora più presente poi è stato veramente Bautista che soprattutto nella prima parte di campionato fino ad Onnington in sostanza compreso ha vinto tutte le gare tranne 3, 1 è caduto, 2 è arrivato in seconda posizione, per il resto parliamo evidentemente di un connubio ingiocabile. uno Ducati V4R ha vinto il campionato Superbike, ha vinto il campionato Supersport con Niccolò Mulega con la squadra di Bautista l'anno prossimo e si è presto anche a vincere il mondiale MotoGP o con Martin o con Bagnaia. Rimanendo alla derivata della serie è un mondiale che era francamente platonico già nella prima parte di campionato, la Superbike un po' ha fatto come la Formula 1, abbiamo un dominatore assoluto, in questo caso Bautista, in Formula 1 Verstappen con la differenza che Verstappen spesso ci mette del suo, Bautista ha sfruttato più una moto favorevole rispetto evidentemente al talento puro, perché Bautista è un ottimo pilota, certo ha aiutato a una grandissima moto, come talento puro secondo me dei Big 3 è quello più in difficoltà, ma comunque non era in merito a un pilota che ha vinto meritatamente l'anno scorso e ha vinto meritatamente quest'anno. Peraltro è la quinta vittoria consecutiva, sesta in realtà, con gara 1 di Jerez, 591 punti per il 38enne pilota spagnolo, che dunque vince il secondo titolo del mondo consecutivo. Si arrende topo a Rasgatioglu all'ennesima serie di secondi posti consecutivi, Rasgatioglu ha fatto quello che poteva, ha vinto con una moto nettamente inferiore, quando evidentemente ha potuto qualche gara qui e lì, ha reso la vita difficile a Bautista, ha approfittato degli errori, pochi peraltro, del pilota spagnolo, quando è caduto, insomma, è un campionato veramente clamoroso, anche quello di Rasgatioglu, che è stato un degno avversario di questo Bautista, ma ancora una volta il pilota turco deve evidentemente cedere alla superiorità del mezzo V4R Panigale, rispetto al talento puro, e sarà veramente interessante vedere Rasgatioglu l'anno prossimo in BMW, comunque, ripeto, è un mondiale che con l'ufficialità di gara 1 si conclude, le prossime due gare saranno prevalentemente platoniche, ma comunque onora al merito sia al vinto, sia ovviamente al vincitore, secondo titolo consecutivo per Bautista, che ovviamente continua a rompere record su record di vittoria in singola stagione in Superbike, ma ci sono più gare, evidentemente tre per evento, cosa che in prima non succedeva, e continua ad accumulare vittorie, siamo di fatto a 55 con questa, già nella top 3 all time per quanto riguarda il pilota della 2. Ducati, per quanto riguarda la casa di Borgo Panigale ovviamente, il migliore di tutti i tempi è Jonathan Ray con 120, ma quello per Bautista sarà evidentemente irraggiungibile, c'è comunque una buona Italia di cui bisogna parlare, ed è quella che occupa la terza posizione, perché abbiamo parlato di Rasgatioglu, abbiamo parlato di Bautista, parliamo però della gara, perché tolte le prime due posizioni, dove a un certo punto Rasgatioglu ha ceduto, è arrivato una grande prestazione di Andrea Locatelli, che batte il suo futuro campanile di squadra Jonathan Ray, e si issa in terza posizione, Locatelli continua ad essere una grandissima realtà, evidentemente di questa superbike, che dimostra anche una volta come il team Yamaha ufficiale, sia la squadra migliore come coppia di piloti, perché possiede un fenomeno, Top Rasgatioglu è un pilota che costantemente è in top 5, e fa podio quando serve, Andrea Locatelli, veramente una grande squadra, quella di Yamaha ufficiale, e sarò molto curioso l'anno prossimo, di vedere Jonathan Ray e Andrea Locatelli, insieme nella stessa formazione, e Andrea Locatelli si dimostra un grandissimo pilota anche lui, è il primo degli altri, evidentemente non potrà attentare la trasportazione di Jonathan Ray, i Big 3 hanno fatto anche una volta quello che volevano, certo vedere comunque una grande prestazione di Andrea Locatelli, fa veramente tanto piacere in una gara dove però ha preso le piste, calcolando che appunto in questa gara 1 di Heres, Bautista e Rasgatioglu se la sono lottata per la prima metà, poi le gomme di Rasgatioglu hanno ceduto, Bautista sappiamo come siamo molto bravi a gestire evidentemente le coperture, e di questo invenza è arrivato il titolo del mondo con la vittoria, ed è bello comunque vedere un pilota spagnolo che vince in casa davanti ai suoi tifosi, segno che comunque è una grande soddisfazione essere decretato campione del mondo vincendo, e quindi adesso probabilmente ci sarà il rompete le righe per la gara di domenica con appunto la Super Paul Race e la Race 2 che saranno evidentemente platoniche, ma ripeto il mondiale Superbike per quanto io di base lo preferisca spesso alla MotoGP, ha regalato evidentemente un mondiale già bello che è indirizzato, il mondiale di Bautista è abbastanza platonico mi verrebbe da dire, ma comunque ampiamente meritato e comunque da ducatista sono ampiamente contento, per una gara di Superbike che comunque vede un'altra grande Italia in quinta posizione, con Michael Rinaldi che comunque è in uscita da Ducati ufficiale, sappiamo che l'anno prossimo in SuperSport, dalla SuperSport meglio, arriverà Nicolo Bulega, sesto Philippe Huttel, una delle migliori gari dell'anno per il parto tedesco della Ducati, Team Go11, segno che comunque la squadra di Bologna ha fatto un grande lavoro di squadra, settimo è Alex Lowe che in realtà va detto ha sottoperformato, ma Alex Lowe non è evidentemente in condizione, ottavo è Axel Bassani che comunque riesce a fare una grandissima prestazione ancora una volta con una Ducati privata, preceduto ovviamente da Danilo Petrucci, migliore degli indipendenti, anche Petrucci è una solida realtà. In nona posizione abbiamo già detto Ciavi Vierche con Iker Lecuona a completare evidentemente la Top 10 per una Honda che invece si dimostra ancora in difficoltà, è mancata invece BMW in questa gara 1 che di fatto sono finite tutte praticamente per terra, con appunto una sottoperformance ancora una volta di Scott Redding che comunque l'anno prossimo scalerà nel team clienti Bonovo, sappiamo che l'anno prossimo BMW arderà quel fenomeno di Top 10 per la Gazzatioglu e se la Gazzatioglu vincerà anche con BMW sarà evidentemente uno dei più grandi fuoriclasse mai visti in Superbike, oltre ovviamente a Jonathan Ray che ha fatto la storia della Superbike e di Kawasaki. Per un Jonathan Ray che invece era classificato già fuori da questo mondiale è sempre stato un duello a due tra la Gazzatioglu e Bautista, la Gazzatioglu ha provato a metterci una pezza con un forcing finale, ma ovviamente contro questo Bautista soprattutto ad Aragone e Portimau era impossibile giocare, il vantaggio dello spagnolo, va detto, qui Hi-Rez era leggermente inferiore, ma comunque alla fine la sua olfa non cambia, Alvaro Bautista vince ancora una volta e si laurea. Campione del mondo Superbike 2023 e di conseguenza appuntamento all'anno prossimo dove si ripartirà da Filippa Island a fine febbraio per un altro campionato di 12 round, ci sarà ovviamente la presentazione prima della gara di Filippa Island con tante novità in serbo, soprattutto il circuito di Remona a un'ora da casa mia e probabilmente ci sarà qualcosina dal vivo in quel caso, ma ovviamente vedremo se ci sarà qualche valore in campo diverso con il nuovo regolamento del Balance of Performance. Secondo me sì e Bautista non riuscirà a replicare questi due mondiali vinti, magari ci sarà spazio per altri, però in questo momento parliamo del futuro. Oggi è il presente e nel presente Bautista ha vinto il secondo titolo del mondo consecutivo in Superbike. Fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questa gara della Superbike di Jerez della Frontera, di questo mondiale Superbike come l'avete visto, se secondo voi Bautista ha vinto per talento mostrato in pista o per superiorità della moto, come in altri contesti, se Rasgatoglu poteva fare qualcosina in più nelle gare dove evidentemente ha sottoperformato e come vedete evidentemente la nuova Superbike per l'anno prossimo. Il saluto da parte di Matthew Thorgaard, ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.